Ciao a tutti, in questo video vediamo di studiare con GeoGebra alcune proprietà dei poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza, con particolare riferimento ai quadrilateri. Abbiamo visto in precedenza che i triangoli, di qualunque forma essi siano, possono sempre essere sia inscritti in una circonferenza che circoscritti ad una circonferenza, perché sia i loro assi che le loro bisettrici passano tutte per uno stesso punto. Per quanto riguarda i poligoni con più di tre lati, invece, abbiamo delle condizioni un pochino più restrittive, ovvero già un quadrilatero non si può sempre inscrivere e circoscrivere ad una circonferenza, ma lo si può fare soltanto se rispetta determinate condizioni. Ora andiamo a vedere con GeoGebra, il nostro programma di geometria dinamica, quali condizioni deve rispettare un quadrilatero per poter essere inscritto in una circonferenza. Ora qui abbiamo rappresentato per l'appunto un quadrilatero inscritti in una circonferenza, ovvero con i suoi quattro vertici A, B, C e D, tutti e quattro appartenenti alla circonferenza. Ricordiamo che affinché un poligono sia inscritto non basta che stia dentro una circonferenza, ma è necessario che i vertici siano sulla circonferenza. Inoltre abbiamo indicato anche i quattro angoli del poligono. Dopodiché, in quest'immagine, noi vediamo chiaramente a destra le misure degli angoli va bene dei quattro angoli del poligono e poi abbiamo rappresentato anche un'altra cosa, ovvero abbiamo rappresentato le coppie di angoli opposti rappresentandoli appunto disponendoli in maniera consecutiva. Quindi se i quattro angoli li abbiamo chiamati alfa, beta, gamma e delta, noi abbiamo rappresentato qua in alto i due angoli corrispondenti alla prima coppia di angoli opposti e nel secondo diagramma, quello più in basso, gli altri due angoli opposti disponendoli in maniera consecutiva. Ora, che cosa succede se noi andiamo a spostare gli angoli della figura, se andiamo a spostare i vertici della figura? Vediamo che la figura ovviamente rimane iscritta perché io ho imposto ai suoi quattro vertici di muoversi soltanto lungo la circonferenza. Così vale per tutti e quattro. Ora che cosa vediamo? Noi vediamo dalle misure in basso a destra che nel momento in cui ho sposto i vertici del quadrilatero lungo la circonferenza, chiaramente gli angoli cambiano. Però nei due diagrammi che andiamo a vedere rappresentati appunto sulla destra, vediamo praticamente che le coppie però di angoli opposti mantengono, conservano una determinata condizione, ovvero sono a due a due supplementari, nel senso che la somma delle due coppie di angoli opposti è in entrambi i casi un angolo piatto, ovvero 180 gradi. Vediamo adesso di rappresentare la cosa in maniera ancora più chiara facendo apparire proprio nei testi, ecco vedete sono apparsi dei testi aggiuntivi, delle scritte aggiuntive, che rappresentano proprio le somme calcolate delle coppie di angoli opposti, alfa con gamma e beta con delta. Vediamo ancora che spostando, muovendo i vertici del quadrilatero, ecco tenendo d'occhio i testi in basso a destra, gli angoli cambiano ma le somme degli angoli opposti rimangono costanti, ovvero rimangono di 180 gradi. Quindi possiamo dire che la condizione sotto la quale un quadrilatero si può inscrivere in una circonferenza è che abbia la somma di due angoli opposti uguale alla somma degli altri due. Il che si può dire più semplicemente, si può esprimere più semplicemente dicendo che gli angoli opposti sono a due a due supplementari, cioè danno a due a due per somma un angolo piatto. Ora, al di là di questa visualizzazione con GeoGebra, questa proprietà dei quadrilateri iscritti si può anche andare a dimostrare e si dimostra utilizzando le proprietà degli angoli al centro e dalla circonferenza. Ora qui noi abbiamo rappresentato un quadrilatero iscritto con le misure dei suoi quattro angoli ma potevano anche essere altre misure. Stiamo facendo una dimostrazione generale e abbiamo rappresentato l'angolo A in rosso e l'angolo C in azzurro. Ora, se noi uniamo con gli altri due vertici del quadrilatero B e D il centro della circonferenza, noi notiamo che quest'angolo A e quest'angolo C sono gli angoli alla circonferenza corrispondenti, uno all'angolo al centro alfa, colorato in rosso, e l'altro all'angolo al centro gamma, che è un angolo stavolta concavo, colorato in azzurro. Ora si vede chiaramente dalla figura che la somma dell'angolo alfa più l'angolo gamma corrisponde a 360 gradi, un intero angolo giro. Siccome l'angolo C è la metà di gamma e l'angolo A è la metà di alfa, perché angoli al centro e alla circonferenza che insistono sullo stesso arco, e se alfa più gamma è un angolo giro, A più C sarà uguale alla metà di un angolo giro, ovvero a 180 gradi. Dato che la somma di tutti e quattro gli angoli di un quadrilatero è 360 gradi, se l'angolo A più l'angolo C sono supplementari, ovvero fanno 180 gradi, anche la somma degli altri due, angolo B più angolo D, sarà uguale a 180 gradi. I problemi che riguardano i quadrilateri iscritti sono soprattutto problemi inerenti agli angoli, perché quando io so che un quadrilatero è iscritto in una circonferenza, mi basta conoscere due angoli, purché non siano opposti, per esempio mi basta conoscere due angoli consecutivi per poter calcolare gli altri due. Oppure mi è sufficiente conoscere una relazione fra due angoli opposti, per esempio il rapporto o la differenza fra due angoli opposti, e a quel punto, conoscendo la somma che è a 180, posso calcolare tutti e quattro gli angoli. Andiamo ora a vedere se, nell'ambito dei quadrilateri particolari, ce ne sono alcuni dei quali posso affermare con certezza la inscrivibilità in una circonferenza. Questi quadrilateri esistono perché, per esempio, quelli rappresentati in giallo, abbiamo un rettangolo e un quadrato, siccome questi due quadrilateri hanno tutti e quattro gli angoli uguali, automaticamente soddisfano alla condizione appena enunciata, cioè dato che hanno tutti e quattro gli angoli uguali, ovvero retti, la somma degli angoli opposti è a 2 a 2 di 180 gradi. Quindi posso concludere che rettangoli e quadrati sono sempre inscrivibili in una circonferenza. C'è una terza figura, in alto a destra, indicata in giallo, che può sempre essere iscritta, ed è per l'esattezza il trapezio esoscele. Sappiamo, infatti, dalle proprietà del trapezio esoscele, che i due angoli alla base maggiore sono uguali tra di loro, i due angoli alla base minore sono uguali tra di loro e i due angoli opposti sono sempre, quindi, a 2 a 2 supplementari, proprio perché per le proprietà degli angoli generati da rette parallele tagliate da una trasversale. Essendo gli angoli adiacenti al lato obliquo supplementari, per definizione, appunto perché coniugati interni, ed essendo l'altro angolo, praticamente i due angoli adiacenti a ciascuna base uguali, io posso concludere che automaticamente gli angoli opposti sono a 2 a 2 supplementari. Viceversa, parallelogrammi comuni e rombi non possono mai essere iscritti in una circonferenza. Andiamo adesso a vedere se ci sono delle proprietà analoghe o se è possibile stabilire una condizione analoga, invece, per quanto riguarda i quadrilateri circoscritti ad una circonferenza. In quest'altro file di GeoGebra vedo appunto un quadrilatero circoscritto ad una circonferenza e che cosa ho rappresentato in alto? Che cos'è che ho riportato? Ho riportato i segmenti somma dei lati opposti, delle coppie di lati opposti. E naturalmente, oltre che da un punto di vista grafico, è rappresentata anche la misura per rendere il tutto più facilmente comprensibile. Ora, io sposto i quattro punti di tangenza, quindi in questo caso l'ho creato determinando prima i punti, diciamo, di tangenza del quadrilatero, perché, come ripeto, un poligono, affinché si possa definire circoscritto, non basta sia esterno, ma i lati devono essere tangenti alla circonferenza. Cosa andiamo a vedere? Che chiaramente il quadrilatero, pur rimanendo circoscritto, cambia forma. Però se andiamo a vedere i segmenti somma e la misura, non vediamo che le coppie di lati opposti, bene, o per meglio dire, la somma di due lati opposti rimane uguale alla somma degli altri due. Quindi possiamo dire che un quadrilatero può essere circoscritto ad una circonferenza quando la somma di una coppia di lati opposti è uguale alla somma dell'altra coppia di lati opposti. Ovvero, quando la somma di ciascuna coppia di lati opposti è esattamente uguale a metà del perimetro. Questo, per risolvere i problemi sui quadrilateri circoscritti, può essere una precisazione importante. La somma di una coppia qualsiasi di lati opposti è uguale al semiperimetro del quadrilatero. Anche questa proprietà si può, diciamo, dimostrare abbastanza facilmente utilizzando le proprietà dei segmenti di tangente condotti da un punto esterno ad una circonferenza. E poi, quindi, questi segmenti si possono andare a ricomporre insieme per formare i quattro lati del quadrilatero. Infatti vediamo che dal vertice D partono due segmenti di tangente colorati in azzurro, ciascuno dei quali ha la stessa lunghezza, sempre per la proprietà che vi invito ad andare a riguardare delle lunghezze uguali dell'uguaglianza dei segmenti di tangente condotti da un punto esterno ad una circonferenza. Così anche dal vertice C i due segmenti in giallo CG e CF sono uguali, dal vertice B i due segmenti in, diciamo, colore blu-viola BF e BE sono uguali tra loro e anche i due condotti dal vertice A, AE ed AH sono uguali tra di loro. Andandoli quindi a sommare, vediamo che la somma di ciascuna coppia di lati opposti è uguale alla somma di quattro segmenti che sono uguali. La coppia B più CD è uguale a 2 più 3 più 4 più 5. La somma di AD e BC è uguale un'altra volta a 2 più 4 più 3 più 5 e sappiamo che cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Passando ai quadrilateri particolari, anche in questo caso vediamo che ce ne sono alcuni che possono essere sempre circoscritti ad una circonferenza. Per esempio, i quadrilateri che hanno i quattro lati uguali, ovvero tutti i quadrati e tutti i rombi, sicuramente possono essere circoscritti, in quanto se i lati sono tutti e quattro uguali, anche la somma di una coppia qualsiasi di lati opposti sarà necessariamente uguale alla somma degli altri due lati. Viceversa, nessun trapezio rettangolo e, anzi, trapezzi rettangoli e trapezzi isosceli in realtà possono, ma non necessariamente, nel senso che bisogna addirittura andare a vedere i lati. Ecco, bisogna andare a vedere quanto misurano esattamente i lati. Quindi i trapezzi si possono circoscrivere o si possono non circoscrivere a seconda di quanto sono lunghi i lati. Viceversa, un rettangolo non potrà mai essere circoscritto ad una circonferenza perché ha sempre due lati opposti che sono più corti degli altri due. Quindi la somma delle coppie di lati opposti non si uguaglierà mai in un rettangolo. Se avete trovato chiare osauriente e vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale Il Signore delle Scienze, dove troverete anche altri video e ne sta comparendo, iniziano a comparirne alcuni anche legati al mondo della matematica. Commentate, condividete, pubblicizzate il canale e iscrivetevi anche. Vi consiglio il canale dell'amico e collega Stefano Panigutti, dove trovate altri contenuti legati alla matematica e alle scienze. Alla prossima!